8 ottobre 2019 Maria si è scelta la parte migliore dal Vangelo secondo Luca capitolo 10 in quel tempo mentre erano in cammino Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distorta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse Signore non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire. Dile dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non ne sarà tolta. Tutti coloro che sono seguaci di Gesù Cristo vogliono servire il Signore. Diversi sono i modi, alcune sono vocazioni precise, che Gesù riserva a questo o a quello. Ma c'è un modo che può essere scelto, ce lo dice Gesù, parlando a Marta, difendendo la scelta di Maria per la parte migliore. Non abbiamo due vocazioni simboleggiate da Marta e Maria, ma due scelte che corrispondono alla profondità dell'intelligenza delle cose di Dio nel suo Cristo. Si serve il Signore facendo tante cose che sono per Lui. L'onore dell'accoglienza, la liturgia della loda e le opere di misericordia corporale e una vocazione spesa per l'evangelizzazione nelle missioni più povere e lontane, ma tutto ha una sua ragione solo nell'amore per Gesù. Quando il nostro cuore si perde nel fare anche le cose più spirituali, al cuore rimane concentrato su quello che si fa, il rischio è quello di non avere il motivo centrato nel cuore di Gesù. Non si tratta di una categoria differente, ma di uno stato dinamico del cuore che tende al Signore, ma accade che si allontana per le distrazioni, per la perdita dell'orizzonte spirituale. Può accadere anche durante un solo giorno, talvolta accade per anni o per un'intera vita. Marta è nella sua casa. L'ospite è al centro delle sue preoccupazioni. Organizza l'evento, ha mille cose cui pensare e da prevedere. La sua mente è concentrata per quello che deve fare. Nella prospettiva c'è Gesù, l'amato, ma rimane un po' dietro alle mille cose da fare per lui. Egli viene dopo come destinato al destinatario delle sue cure. Tutto è nobile, ma il paradosso è questo. Mentre si preoccupa per la prospettiva dell'accoglienza del pranzo, l'ospite è lì, è già presente, ma lei lo colloca solo nella prospettiva dell'evento del pranzo, dove tutto sembra incentrarsi, mentre Gesù è lì presente che chiede solo di essere nel cuore della sua fedele. Se tutto fosse come nella parabola delle vergine, dove si è attesa per il ritorno dello sposo, la trepidazione sarebbe per l'incontro con lui, il suo ingresso nella casa. Questo è l'evento. Gesù è già nella casa di Marta, ma lei lo mette in attesa perché deve preparare mille cose. Maria invece ha capito che il cuore delle cose, tutte quante, è stare con Gesù, vicino a lui, con lui, interessata solo a lui, perché lui vuole questo interesse, l'amore esclusivo, che fa perdere ogni altro orizzonte che non sia lo sposo. Maria ha scelto questo e Marta no. Marta avrebbe anche potuto fare ogni cosa con l'unione intima del suo cuore per Gesù, ma era preoccupata per tante cose e questa la rendeva distante. Non si tratta di una questione di carità contemplativa, contrapposta a quella operativa. Si tratta invece di essere incentrati nel cuore di Gesù, facendo tutto quello che dobbiamo fare, ma con l'unica preoccupazione di amarlo e di fare tutto per amore suo. Marta si era distratta sulla preoccupazione, mettendo in secondo piano il motivo principale per cui si stava preoccupando, Gesù, l'ospite della sua casa e del suo cuore. Si comprende che Marta è distratta dal centro, dal fatto che non comprende e rimprovera la sorella perché sta con Gesù. Doveva solo giubilare per il ritrovamento dell'amato, della sorella, ma Marta non ha questa carità di essere felice per la felicità della sorella. Non è gelosa Marta perché non comprende cosa voglia dire essere nel profondo del cuore di Gesù e stare alla sua presenza beatificante. Per questo la vorrebbe distrarre perché è convinta che il modo migliore per servire il Signore sia quello che sta facendo. Non si tratta di limiti imposti da un'abitazione, ma di una scelta. Questo deve essere un modito per tutti noi. Il fine eterno della nostra esistenza si realizza qui sulla terra, in mezzo a mille incombenze, ma rimanendo profondamente ancorate al Signore, amando Lui sopra ogni cosa e facendo tutto per il suo amore, rimanendo alla sua presenza. Dio vi benedica. Grazie. Grazie. Grazie.